Mentre allo stadio Vannisanna proseguono i lavori di consolidamento della gradinata, chiusa da tempo e ora al centro di un restyling finanziato dal comune che dovrebbe concludersi nell'arco di 90 giorni, la Torres riprende la sua settimana di allenamenti, reduce dal secondo pareggio consecutivo. Un punto, quello conquistato nella trasferta di Anzio Lavinio, che alla luce dei risultati delle inseguitrici vale quanto una vittoria. L'esterno rosso-blu Giancarlo Lisai No, per noi lo vediamo come un bicchiere mezzo pieno perché comunque il girone di ritorno è sempre più difficile, le squadre sono sempre più agguerrite perché soprattutto nei campi dove devono salvarsi, quindi per noi è stato un punto più che guadagnato, poi per come si è messa la partita ancora di più. Non ci sono immagini disponibili della trasferta, iniziata bene per la Torres con il gol di Meloni, proseguita con la concessione di due rigori contro e di altrettante espulsioni e terminata con un pareggio per 2-2 ancora firmato Meloni. Giosef Manzini descrive così gli episodi clou della gara. Il primo ho visto che il giocatore aveva calciato e nel calciare ha calciato sia il pallone che la gamba di Cro, quindi forse il primo era quasi in rigore. Il secondo invece, secondo me, si ha toccato la palla con la mano ma il maledio era stato spinto nel contesto dell'azione di gioco. Ma con che mezzi si recupera una partita che sembrava persa? L'esperto centrocampista elogia la forza del gruppo e invita a mantenere i nervi saldi in vista della volata finale. Il cuore, la grinta, la determinazione, la voglia sempre di non perdere e di cercare di vincere tutte le partite. È una situazione di nervi. Gli altri stanno cercando di trasformare il nervosismo nei nostri confronti a livello mediatico. È una cosa che ci sta nel calcio ma noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada. Domenica sarà la volta del Cinzia Genzano, mentre per sabato 9 marzo è stato fissato l'anticipo Sola Torres che sarà trasmesso in diretta su Rai Sport con inizio alle 13.30.